Vediamo poi l'interpretazione della fonte del diritto e quindi delle norme giuridiche. Ci sono vari tipi di interpretazione e come abbiamo detto precedentemente è spesso necessario interpretare una norma giuridica perché l'ordinamento giuridico non contempla tutti i possibili casi che si possono verificare nella realtà concreta, nella realtà empirica e spesso risolve questo problema con dei concetti valvola, quindi delle norme di chiusura con cui cerca almeno di dare un'indicazione ma che al momento in cui si è di fronte a un fatto concreto possono essere abbastanza vaghi. Dicevo all'inizio quando ho presentato questa seconda sezione del corso ho fatto l'esempio dell'aggravante generica prevista dal codice penale che prevede l'aumento di un terzo della pena quando il fatto, dice testualmente il codice penale, è di particolare gravità. Per esempio, qual è che un fatto è più grave di un altro? Per esempio nella rapina dove oltre alla sottrazione del bene questa sottrazione deve essere avvenuta usando violenza alla persona. È più grave averle puntato una pistola alla tempia o averle messo un coltello sotto alla gola? Ecco, non ce lo dice la legge questa, se è più grave quello è più grave quell'altro. È il giudice che in quel caso va a interpretare la norma e poi magari se facesse un'interpretazione errata o particolarmente svantaggiosa rispetto a quelli che sono i principi generali di diritto o anche vantaggiosa magari la sentenza poi sarà ribaltata in corte d'appello oppure cassata dalla corte di Cassazione. Quindi vediamo che l'interpretazione delle norme giuridiche può avvenire innanzitutto secondo le fonti. C'è innanzitutto in alcuni ordinamenti giuridici c'è stato in passato l'interpretazione autentica. Che vuol dire l'interpretazione autentica? Che nel momento in cui il giudice quando si va a applicare la norma giuridica, qui ovviamente si tratta sempre di quando in tutti i casi riguardo a questo paragrafo si tratta sempre di quando ci troviamo davanti al giudice con un caso concreto avvenuto nella realtà concreta che il giudice deve appunto ius dicere, dire il diritto, quindi applicare la norma giuridica e se infatti andate in un modo piuttosto che in un altro applicare o meno la sanzione. L'interpretazione autentica che cos'è? È quella fatta dallo stesso organo che ha emanato la legge, quindi non è chiara una legge statale, sarà il Parlamento a dare un'interpretazione autentica, cioè a dire quando ho fatto la legge volevo dire questa cosa, se non l'ho precisata in quella sede volevo dire proprio questa cosa. Nel nostro ordinamento questo non esiste, ma in passato per esempio in Francia successivamente alla rivoluzione è esistito l'istituto del referé legislatif che appunto consisteva in questo, quando il giudice non sapeva come risolvere il caso poteva rimettere la norma a chi l'aveva fatta appunto all'assemblea nazionale francese. Ovviamente un meccanismo che aveva intasato il Parlamento e che è stato ben presto abbandonato. L'interpretazione poi può essere giudiziale, nel senso che il giudice dà un'interpretazione di quella norma per quel caso concreto. Il giudice non può, questo è stabilito dalla Costituzione, non può astenersi dal dire una cosa piuttosto che un'altra. Se io faccio una domanda di risarcimento del danno il giudice non può dire ma io non c'ho la norma e quindi non posso pronunciarmi. Dovrà dire sì diritto al risarcimento oppure no diritto, non c'è nessun diritto al risarcimento. Quindi rigettare la domanda dell'attore oppure condannare il convenuto al risarcimento del danno. Poi c'è l'interpretazione dottrinale. L'interpretazione dottrinale è quella che fanno gli esperti di diritto, i professori universitari, i costituzionalisti. Ovviamente qual è il valore davanti al giudice di questa interpretazione? Il valore è zero perché poi il giudice non è che è obbligato ad attenersi anche se spesso magari lo farà perché queste interpretazioni dottrinali ovviamente vengono da persone qualificatissime, non è che siano campate in aria, ma il valore davanti al giudice è zero. Non è che il giudice poi è obbligato a seguire quella corrente dottrinale piuttosto che quella. Tra trirmenti arriveremmo alla legge delle citazioni che prima che Giustiniano mettesse mano alla codificazione di tutto il diritto romano era diventato talmente complesso nei secoli che si era arrivati a dire ma se la norma non è chiara prima vale l'interpretazione che è da Gaio, poi Modestino e poi quell'altro. Ovviamente qui si va quasi al di fuori del diritto. Poi l'interpretazione può avvenire anche secondo i metodi. Si può interpretare la norma in maniera letterale, cioè proprio si fa l'analisi grammaticale, l'analisi logica della norma e si dice che letteralmente la norma significa questo. Si può fare un'interpretazione logica, cioè si va a ricercare la volontà del legislatore, la cosiddetta ratio legis, la cosiddetta ragione per cui il legislatore ha emanato quella norma e visto che la ragione era quella, allora anche se non l'ha detto questo caso concreto rientra in questo caso da cui applicare questa norma giuridica. Oppure ancora, sempre dal punto di vista dei metodi, si può fare anche un'interpretazione analogica, cioè si va nel caso in cui la norma non disciplini quel caso concreto in maniera esplicita, si va a cercare una norma nell'ordinamento giuridico che disciplina un caso analogo. Questo l'ordinamento giuridico lo consente. Nelle preleggi del codice civile appunto è ammessa l'interpretazione analogica. Non è mai ammessa l'interpretazione analogica nel campo del diritto penale, altrimenti chissà chi si condannerebbe, magari per ripicca o per voler fare violenza politica o per voler fare una violenza a un gruppo commerciale e chi si favorirebbe nel caso opposto. Sotto il profilo dell'efficacia invece l'interpretazione può avere un'efficacia dichiarativa, nel senso che si può arrivare a dire che la norma ha un significato più ristretto rispetto a quello che è desumibile dalla lettera della norma, cioè facendo l'analisi grammaticale e logica della norma, la norma dice una certa cosa, si pensa che ci potrebbe entrare anche questo caso, ma in realtà si va a dire la norma ha un'interpretazione, si dà un'interpretazione della norma ristretta, cioè si va a concludere che la norma non sarebbe voluta arrivare fino a quel punto. Oppure restrittiva, quindi si applica una norma che è dettata per un caso analogo, oppure ancora estensiva, i casi contemplati si intendono esemplificativi. Rispetto all'analogia che è sicuramente uno dei metodi interpretativi più utilizzati, soprattutto quando si verificano, come abbiamo detto, dei casi non concreti, se avete letto, se qualche volta vi è capitato di leggerlo, leggerete il romanzo di Pirandello e la Giara, ecco quello è un caso emblematico del giudice, anche se ha poi tutta la caricatura romanzesca di Pirandello, nel senso che il contadino rimane dentro la Giara, non riesce più ad uscire, ovviamente per farlo uscire bisogna rompere la Giara, il proprietario terriero tirchissimo prende il codice civile, lo comincia a sfogliare e dice ma qui non c'è una norma che disciplina questo caso, e appunto dice caso nuovo. Ecco, in questo caso si può andare, il giudice, non nel contadino, nel proprietario terriero, il giudice potrà andare a vedere se nell'ordinamento giuridico ci sono dei principi, se c'è un'altra norma per risolvere quel caso concreto che le norme giuridiche non disciplinano esplicitamente.